Benvenuti nella Galassia Rattics. Oggi voglio parlarti di una moto iconica, la Honda Transalp 750. È un'occasione unica perché questa bellezza è usata, ma in condizioni impeccabili. Con un motore bicilindrico da 755 cm3 e immatricolata nel maggio del 2023, ha percorso poco più di 3.000 km, tutti certificati. Questo significa che ha ancora molto da offrire in termini di prestazioni e affidabilità. Se stai cercando un compagno di avventure affidabile e potente, questa Transalp è la scelta perfetta. Con le sue specifiche tecniche impressionanti, ti porterà ovunque con sicurezza e stile. Ecco il punto forte. Puoi trovarla su motorattics.com. Se sei interessato a questa Honda Transalp 750 o vuoi scoprire altre fantastiche offerte,